Il compositore e produttore musicale sul Monese, Patrizio Maria d'Artista, sarà il direttore del musical dedicato allo Zecchino d'Oro, Kermes di Rei 1, giunta alla sessantesima edizione. Con i suoi arraggiamenti musicali, il giovane e talentuoso abruzzese avrà il compito di rivisitare in chiave moderne alcune delle più celebre canzoni dello Zecchino d'Oro. Quelle canzoni che da 60 anni catturano i più piccini, trasmettendo valori importanti e messaggi educativi, senza dimenticare i ricordi di chi è ormai cresciuto e che mai però dimenticherà il periodo di quanto si era bambini. Il debutto del musical è previsto per il prossimo 21 ottobre, intanto sono aperte le candidature per il casting, con i proviri che si terranno il 16 giugno prossimo al Teatro Cuminetti di Trento e il 17 giugno al Teatro Filippini di Verona. Si cercano nello specifico sei attori di teatro, cantanti, tre uomini e tre donne, con attitudine al movimento.